Un annuncio che è molto di più perché è anzitutto una bella notizia che dimostra ancora una volta la sensibilità e l'attenzione della Chiesa e dell'Arcivescovo di Milano per il mondo della disabilità. Intervenendo al convegno Una Comunità a misura di ogni persona, svoltosi su piattaforma, Monsignor Del Pini ha infatti annunciato la costituzione di una consulta diocesana dedicata alla disabilità e all'inclusione. Desidero comunicare che ho preso la decisione di costituire una consulta per affrontare il tema del rapporto tra la comunità cristiana e la disabilità, una consulta che abbia una sua composizione che dovremmo decidere, che abbia un programma di lavoro che risponda al vicario per l'evangelizzazione, per l'educazione alla fede e la celebrazione, quindi Monsignor Don Mario Antonelli. Ecco, una consulta che costituiamo proprio per affrontare la vita cristiana delle persone con disabilità in tutto il suo svolgersi e in tutte le sue condizioni. Perciò costituiremo questo, Don Mauro sarà il regista, il punto di riferimento e poi cercheremo i collaboratori che aiutino a questo lavoro di discernimento, di approfondimento, di interpretazione delle situazioni e di proposte pastorali. Parole che sono la logica conclusione di quanto l'arcivescovo aveva poco prima detto durante il convegno, promosso dal tavolo di coordinamento diocesano Tutti o Nessuno e da diverse realtà, secondo quel sogno che hanno raccontato tante testimonianze e i video portati all'incontro guidato da Don Mauro Santoro, referente per il tavolo e collaboratore del servizio per la catechesi. Ricominciare a dire noi, purché sia un noi aperto, di cui tutti possono farne parte, anche le persone con disabilità e più in generale tutte le persone fragili che rischiano, soprattutto in questo tempo, di essere dimenticate. Un noi costituito da tutti perché a tutti è data la pari dignità e tutti sono figli di Dio in grazia del battesimo. Da qui le espressioni dell'arcivescovo che paiono una risposta. Lo scandalo, così duramente condannato da Gesù, è smentire la promessa. Lo scandalo è dire al bambino o alla bambina, tu sarai anche grande nel regno di Dio, ma qui non puoi entrare perché non sai fare le scale. Tu sarai anche grande nel regno di Dio, ma questa parola non la puoi ascoltare perché non senti. Tu sarai anche grande nel regno di Dio, ma questo libro non puoi leggerlo perché non puoi vedere. Sarai anche grande nel regno di Dio, ma qui non puoi venire. Con noi non puoi stare perché il tuo comportamento è inaccettabile, il tuo carattere è insopportabile, il tuo linguaggio è incomprensibile. Sarebbe scandaloso perché la Chiesa deve interrogarsi su come compiere le opere di Dio e onorare la promessa scritta nel venire alla luce di un cucciolo d'uomo. Perciò sono fioriti nella Chiesa innumerevoli santi e innumerevoli opere meravigliose per onorare la promessa di Dio, tu sarai amato. Così si onora al Signore e si far crescere la libertà dei Suoi figli e non solo di alcuni. L'amore non è quello che accudisce in modo da creare dipendenza, ma quello che si prende cura perché cresca la libertà della persona amata fino al compimento della sua vocazione ad amare. Insomma. La comunità cristiana si interroga sul suo rapporto con la disabilità perché obbedisce al Signore, pone in mezzo la persona fragile e assetata di amore e le assicura. Tu sarai amata, sì, anche tu che credi di non meritare l'amore sarai amata. Anche tu comprenderai e rivelerai a tutti che l'amore con cui sei amata ti rende capace di amare. A conclusione della serata giunge anche l'esito di un sondaggio. Le persone con disabilità sono destinatarie di cure da parte della comunità o possono essere anche portatrici di ricchezza per la comunità stessa? Beh, plebiscito. La loro semplice presenza è già una ricchezza per le comunità che li accolgono. Direi che con 166 voti e il 93% è la conclusione migliore. Direi che con 166 voti e il 93% è un sondaggio di ricchezza per la comunità che li accolgono.